Ciao, come state? Piacere di conoscervi. Io sono Enzo Trosso, sono nato qui in Perù, a Lima, mio padre piemontese di provincia di Cugno. Sono stato in Europa dal anno 92 fino al 99, poi sono rientrato in Perù. Sono ormai 22 anni che lavoro con le piante medicinali, aromatiche, con la medicina tradizionale dei popoli indigeni dell'America. Questo novembre sto tornando in Italia, dopo 17 anni. Allora sarà un piacere molto grande incontrarvi a tutti gli amici Aissu, vicino al lago Maggiore e dintorno. Magari per compartire il lavoro che stiamo facendo con la medicina erbolaria tradizionale, anche con il fuoco antico che abbiamo qua. Un abbraccio grande, stami bene, bendizioni.